Ciao ragazzi bentornati sul canale di mca mondo canale nato io sono sempre andri e oggi siamo qua con un nuovissimo video delle nazionali nel 2025 quindi diciamo pronti per il mondiale dopo l'europeo che sta correndo proprio in questi giorni oggi ragazzi dopo aver visto l'italia e il belgio siamo qua con l'olanda ragazzi altra super nazionale top che negli ultimi anni sta veramente diventando molto interessante con dei giovani spettacolari e oggi andremo a vedere nel 2025 come si comporterà proprio questa formazione andiamo un po' a vedere i giocatori che attualmente fanno parte della nazionale se saranno ancora in grado o se comunque saranno ancora abbastanza forti promettete a far parte proprio della nazionale ma senza perdere altro tempo direi di iniziare con il portiere ovvero Jasper Silesan ragazzi giocatore che addirittura sarà al Bologna nel 2025 giocatore che anzi portiere che ha fatto veramente una bellissima carriera finora mi pare abbia girato Barcellona, Valencia quindi insomma squadre abbastanza importanti sicuramente una su tutte il Barcellona giocatore comunque che avrà 35 anni quindi non sarà proprio super giovane 1.85 di altezza quindi neanche così alto come portiere 2.300 di valore, 19.500 come stipendio settimanale 1.80 di overall che non fa assolutamente mai male e delle statistiche da portiere che in realtà sono molto interessanti tutte molto equilibrate e sinceramente interessanti non è un super top portiere ma sicuramente neanche l'ultimo arrivato io sinceramente al Bologna ce lo vedrei molto bene l'unico problema sono queste due caratteristiche speciali che sono infortunio facile ma esce sui cross è molto interessante buono buono Jasper Silesan anche se non sarà sicuramente un portiere top per questa Olanda primo difensore centrale di questo 3-5-2 Daley Blind dallo Stokkerda ragazzi finito anche lui in Bundes dopo aver giocato all'Ajax per molti anni essere stato veramente una colonna dell'Ajax difensore centrale mediano o terzino sinistro infatti ogni tanto ad esempio con l'Italia mi pare abbia giocato come terzino sinistro ma comunque veramente un giocatore interessantissimo Blind appunto è andato allo Stokkerda 3-3 di debole un giocatore super tecnico magari un po' lento infatti 41 velocità scatto e 51 accelerazione a 34 anni nel 2025 però ragazzi a livello di piedi è un fenomeno 18 milioni di clausole gli ha piazzato lo Stokkerda un giocatore sia offensivo ma anche abbastanza difensivo con delle statistiche tecniche come ho detto prima veramente strabilianti guardate 85 a passaggio lungo, 84 a passaggio corto, lettore difensivo 82 in più tiro d'esterno e sicuramente leader come caratteristica speciale Virgil van Dijk ragazzi eccolo qua come poteva mancare il grande Virgil, il grande armadio Virgil van Dijk che purtroppo grande assente di questo europeo ma insomma si è spaccato il ginocchio a Liverpool e ha praticamente finito la stagione abbastanza prematuramente primo di gennaio mi pare se non ricordo malissimo comunque nel 2025 a 33 anni sarà ancora veramente il difensore da superare 91 di overall, 62 milioni di valore 1,93 per 92 kg ha perso un po' la velocità che in realtà aveva abbastanza ultimamente infatti 81 di toscatto comunque rimasta 90 di elevazione, 94 di forza poi 93 lettori difensiva 94 con trasto in piedi insomma è sicuramente un difensore top con carisma, passaggi lunghi e forti di testa Virgil van Dijk non si discute assolutamente e un altro giocatore che non si discute assolutamente è Matthijs De Ligt che ha 25 anni, ha lo stesso overall di van Dijk a 33 questo è veramente impressionante Matthijs De Ligt ancora la Juventus tra l'altro anche van Dijk ancora Liverpool De Ligt 1,89 per 89 kg 4 di piedi debole mamma mia una clausola di 233 milioni e un valore di 140 praticamente mamma mia speriamo vadano veramente così le cose sia per la Juventus che per il calcio italiano perché sarebbero veramente un bel po' di soldi che entrerebbero nelle tasche guardate qua ragazzi 94 di forza esattamente come van Dijk 92 di elevazione quindi 2 in più di van Dijk molto più un lettore difensivo 95 presione di testa 94 insomma è diventato lui in realtà il difensore da superare altro che van Dijk grande Matthijs De Ligt con roccia e forte di testa come caratteristiche speciali finita la difesa passiamo al centrocampo con Denzel Danfries che probabilmente dopo l'ottimo europeo che per ora sta facendo e chissà che non possa andare avanti al Borussia Dortmund incredibilmente lui è terzino destro ma abbiamo visto che può fare benissimo anche l'esterno destro ha anche segnato qualche gol all'europeo per adesso 1,88-80 kg quindi è veramente grosso questo giocatore infatti è segnato di testa se non sbaglio 83 di overall vale 33 milioni di euro un po' il sostituto di Hakimi se vogliamo vedere così per il Borussia anche se non è quel treno a livello di velocità come lo verrà Hakimi è assolutamente abbastanza un po' più difensivo però delle statistiche veramente pazzesche 92 di resistenza poi precisione di testa 88 contrasto di piedi 83 forza 89 elevazione 90 veramente super interessante Danfries con rimessa lunga roccia carisma e derivatore veloce chissà se appunto dopo questo europeo anche qualche squadra top non si fiondi su questo Danfries Frankie De Jong ragazzi altro giocatore top di questa Olanda 91 di overall anche lui come De Ligt e Van Dijk tutti i tre diciamo top dell'Olanda tutti a 91 di overall di base De Jong 4 abilità 3 di debole centrocampista che ormai conosciamo tutti guardate anche qua 216 milioni di clausola e 139 anzi 140 praticamente milioni di euro di valore veramente quasi come De Ligt giocatore guardati dal punto di vista delle statistiche c'è veramente qualcosa di straordinario non capisco questo precisione punizioni 68 sinceramente e questo potenziatiro 70 perché comunque un giocatore che sa calciare sa calciare anche le punizioni però probabilmente a FIFA non piace questa cosa e poi classe regista tiro d'esterno e derivatore tecnico come caratteristiche speciali su De Jong ragazzi c'è veramente poco da dire insomma è uno dei migliori centrocampisti al mondo al momento a mio parere e anche per il futuro sicuramente che avrà ancora soltanto 27 anni nel 2025 Giorgino Wijnaldum ragazzi guardate un po' dove è andato a finire al Napoli incredibilmente si ha 34 anni proprio adesso in teoria dovrebbe andare al Paris Saint Germain sembrerebbe essere tutto fatto ma ha 34 anni a quanto pare tra qualche annetto al Napoli beh non sarebbe così male vedere un Giorgino Wijnaldum a Napoli mi sembra un po' un centrocampista che può far parte di questa piazza comunque 4 abilità 4 idebole il capitano dell'Olanda ora che non c'è Van Dijk quindi insomma è sicuramente un valore aggiunto per lui 83 di overall con delle statistiche credo migliori ancora di De Jong dal punto di vista almeno di FIFA sicuramente in realtà sono due giocatori abbastanza diversi ma Wijnaldum veramente un fenomeno con classe anche come caratteristiche speciali direi il centrocampista completo per eccellenza un po' la Sedorf se vogliamo un po' azzardare qualche paragone Martin Deron ragazzi guardate un po' chi c'è qui alla Stoneville nel 2025 a 33 anni quindi dopo la parentesi Atalanta dopo aver raggiunto l'apice della sua carriera ovviamente all'Atalanta e con la conferma e anche con la convocazione in nazionale eccolo qua alla Stoneville a 33 anni 3 di abilità 3 di deboli Deron sicuramente l'incontrista diciamo così per eccellenza un giocatore veramente interessante con delle statistiche almeno a livello della velocità non molto ma un giocatore che di resistenza infatti 90 aggressività 85 fa la sua assolutamente forza 81 l'entura difensiva 81 scivolata contrasto in piedi 79 roccia come caratteristica speciale Deron sicuramente è un avversario super ostico per chiunque esterno sinistro abbiamo Owen Weindal ragazzi terzino anzi esterno anche perché stesso discorso che si può fare per Dumfries che è veramente uscito fuori in una maniera incredibile soprattutto su questo europeo ma anche negli ultimi anni 85 di ovvero nel 2025 al Chelsea 3 di abilità 2 di debole 1.76x75 kg quindi abbastanza minuto ma 54.500.000 di valore 125.000 euro come se più settimanale e super super veloce guardate 88 accelerazione 89 velocità scatto 93 resistenza sto ragazzo è molto veloce riesce a mantenere questa velocità anche per tanti tantissimi metri dal punto di vista tecnico è veramente molto interessante e il dribbatore veloce come caratteristica speciale io sinceramente a questo giocatore al Chelsea ce lo vedo veramente tanto tanto bene attenzione Memphis Depay alla Roma mamma mia il giocatore secondo me top ma veramente top di questa formazione il numero 10 se non sbaglio dell'Olanda Memphis Depay anche lui giovane eterno sicuramente sì 85 di overall 30 anni nel 2025 alla Roma appunto finalmente operato in Serie A non alla Juve non all'Inter ma alla Roma a quanto pare 53 milioni di valore con delle statistiche ragazzi che fan paura è veramente super super forte con addirittura 6 caratteristiche speciali carisma classe tiro da fuori regista tiro da esterno e dribbatore tecnico mamma mia e il suo compagno d'attacco io ho messo Steven Bergwin ragazzi perché sì lo so che è più un esterno ma secondo me con Depay possono fare veramente una coppia offensiva devastante giocatore anche lui la Stone Villa compagno in squadra di Derone nel 2025 assolutamente molto interessante a Stone Villa che comunque ha fatto un sacco di soldi evidentemente 57 milioni anzi quasi 58 di valore 105 come stipendio settimanale 4 abilità queste due di debole per Bergwin si fanno sentire almeno nel gameplay attualmente poi 90 accelerazioni 86 veloce a scatola era un giocatore che magari della tecnica diciamo col piede debole non fa proprio il suo forte ma la velocità e il dribbling è veramente infermabile infatti classe tiro da fuori dribbatore veloce tiro da esterno e dribbatore tecnico come caratteristica speciale quindi devo dire che questa Olanda nel 2025 guardando un po' i valori quindi giocatori che adesso sono giovani ma che saranno veramente dei giocatori assurdi tra qualche anno insomma potrà fare veramente una fottuta paura e potrà essere sicuramente una nazionale top commentate ragazzi con cosa ne pensate voi di questa Olanda nel 2025 iscrivetevi al canale lasciate un mi piace attivate la campanella e ci sentiamo a un prossimo video ciao ragazzi